5, 4, 3, 2, 1, vai! da stra 2, per sinistra 2 lunga, per sinistra 2 lunga, per sinistra 3 non tagliare, sinistra 3 non tagliare, la E30, al muro sale da stra 1, impeto al muro sale da stra 1, accendo sinistra, per attenzione sinistra 1 lunga apre, sinistra 1 lunga apre, 20, a cancello da stra 1 sale, tranquillo, da stra 1 sale, 50, testa 3 lunga e chiude, vado testa 3 lunga e chiude, attenzione al palo, subito cambio strada, sinistra 1, cambio strada subito, sinistra 1, la E50, la E50, al cartello cambio strada, destra 1, vado al cartello cambio strada, destra 1, accendo destra, 50, via al muro, destra 3, su ponte non tagliare, destra 3, 50, destra 3, 50, a cancello sinistra 4, vai 30, vai 30, muro sinistra 3 più, sinistra 3 più, in accendo destra, vai 80, destra 5, 80, e attenzione, 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 vai, attenzione, strettoia, ingresso a destra, vai, vai 50, in accendo sinistra, attenzione, destra 3 meno, ti vado per attenzione, destra 3 meno, in sinistra 3 meno, sinistra 3 meno, destra 4, 30, sinistra 3 più, qualche sinistra 3 più, destra 4, 50, destra 4, 50, attenzione, strettoia, al muro sinistra 3, sinistra 3 meno, in sinistra 4, vai, 80, in sinistra 4, vai, 80, in accendo sinistra, vai, in accendo sinistra, per attenzione, destra 2, ripeto, per attenzione, destra 2, 30, attenzione, strettoia, sinistra, vai, 50, e alle rail, destra 3, ripeto, alle rail, destra 3, 50, destra 3 meno, destra 3 meno, in sinistra 5, 80, in accendo destra, per sinistra 4, per sinistra 4, in sinistra 3, lunga lunga, ripeto, sinistra 3, lunga lunga, vai, 80, in accendo destra, per attenzione, sinistra 3, lunga lunga, attenzione, sinistra 3, lunga lunga, vai, 50, alle rail, destra 4, ripeto, alle rail, destra 4, per accendo destra, per attenzione, sinistra 3, due tempi chiude, sinistra 3, due tempi chiude, vai in accenno destra vai 70 destra 3 in sinistra 3 anche in sinistra 3 vai 80 accenno sinistra attenzione destra 2 attenzione destra 2 in sinistra 2 vici d'apre in sinistra 2 vici d'apre vai 80 accenno destra al cartello destra 4 50 per attenzione al rail destra 2 lunga ripeto al rail destra 2 lunga vai 80 sinistra 4 vai 100 sinistra 4 vai 100 sinistra 4 sinistra 4 per attenzione destra 3 ripeto per attenzione destra 3 in sinistra 3 lunga sale in sinistra 3 lunga sale accenno destra lunga accenno destra lunga per sinistra 4, lunga lunga, ripeto per sinistra 4, lunga lunga, l'accendo destra, a 50, destra 4 e subito le piante, attenzione, subito destra 2 apri, destra 2 apri, a 50, al cartello sinistra 3, ripeto al cartello sinistra 3, allo specchio sinistra 2, allo specchio sinistra 2, ai 50, sinistra 4, lunga, sinistra 4, lunga, per accendo destra, per accendo destra vai 80, il settore è in grado sinistra, tiene sinistra vai, al muro, destra 3, meno, ripeto il muro, destra 3, meno, in accendo sinistra 80, accendo sinistra 80, alla rete, destra 3, meno, destra 3, meno, in sinistra 4, vai 80, attenzione ai paletti, sinistra 3, sinistra 3, vai 30, sinistra 4, meno, e subito, attenzione, all'albero, destra 3, ripeto all'albero, destra 3, vai 30, sinistra 3, attenzione, subito alle rete, destra 2, ripeto destra 2, vai 30, 30, accendo sinistra, in sinistra 4, destra 5, 20, accendo sinistra, 30, accendo destra 80, tiene sinistra, per destra 4, meno, ripeto destra 4, meno, vai, 80, sinistra 3, attenzione al rosso chiude 2, sinistra 3, attenzione al rosso chiude 2, 50, al ponte destra 2, al ponte destra 2, accendo sinistra, accendo sinistra 80, al palo sinistra 4, al palo sinistra 4, vai 50, al palo sinistra 3, in destra 2, lunga lunga, sinistra 3, in destra 2, lunga lunga, in destra 2, lunga lunga, in sinistra 4, lunga lunga e chiude 3, ripeto sinistra 4, lunga lunga, chiude 3 alla fine, vai 80, vai 80, accendo destra e al rail sinistra 3 lunga lunga, al rail sinistra 3 lunga lunga, vai 80, al palo destra 3 lunga lunga, al palo destra 3 lunga lunga, 30, destra 3 meno, 80, destra 3 meno vai 80, sinistra 4, sinistra sinistra 4 per sinistra 5, al rail sinistra 4 lunga lunga, sinistra 4 lunga lunga, in destra 3 più, in destra 3 più, 30, sinistra 3, sinistra 3, al rail destra 4, al rail destra 4 vai 80, accendo destra e vai 100, vai 100, accendo sinistra, per attenzione il settore ingresso destra, vai 50, vai 50, al cartello sinistra 4 meno, sinistra 4 meno, 50, destra 4 lunga, destra 4 lunga, 100, vai, ok Massimo, 650, bravo. Grazie a tutti.